Stasera in TV, martedì 27 settembre 2022, andrà in onda sul Rai 1 L'Amata Fiction in Matataranni, Sostituto Procuratore 2, si tratta di una nuova puntata o di una replica? Scopriamo tutti i dettagli Stasera in TV, martedì 27 settembre 2022, andrà in onda sul Rai 1 L'Amata Fiction in Matataranni, Sostituto Procuratore 2, si tratta di una nuova puntata o di una replica? Scopriamo tutti i dettagli Leggi anche, X Factor 2022, quando la puntata su TV 8? Orario, dove vederlo in chiaro in TV, replica in Matataranni, Sostituto Procuratore Stasera martedì 27 settembre 2022, replica o nuova puntata? Quella che andrà in onda stasera in TV, martedì 27 settembre 2022, non è una nuova puntata di In Matataranni, si tratta invece della replica della seconda parte della seconda stagione In Matataranni, tre nuovi episodi, quando inizia? La nuova stagione di In Matataranni non ha una data ufficiale d'inizio La Rai ha comunque comunicato che le nuove puntate della terza stagione andranno in onda nel corso della prima metà del 2023 A che ora inizia? Orario La replica di In Matataranni 2 andrà, quindi, in onda stasera ma a che orario inizia? L'appuntamento è sul Rai 1 dalle 21 e 25 Anticipazioni puntata stasera di seguito Le anticipazioni sulla trama della puntata di In Matataranni in onda stasera, quante puntate sono? Le puntate della seconda parte di In Matataranni 2 sono 4 e andranno in onda ogni martedì in prima serata Restate aggiornati con Per Scoprire tutte le news in merito a In Matataranni 2 quando va in onda la prossima puntata e i dettagli sulla trama della puntata in replica stasera 27 settembre, quante altre puntate sono previste, l'orario e quando andranno in onda